Con nuove sistemazioni per i senza fissa dimora, interventi di primo soccorso e l'apertura di tre stazioni metro anche di notte per garantire un riparo a chi vive in strada, l'amministrazione comunale mette a punto un piano straordinario per fronteggiare il grande freddo previsto anche in città. Per i prossimi dieci giorni saranno 150 i posti in più allestiti nel dormitorio pubblico di Via De Blasis, all'Istituto San Francesco d'Assisi a Marechiaro e presso la comunità La Tenda nel quartiere Sanità. Due le unità mobili del comune e una dell'Asl Napoli 1 operative sul territorio cittadino per fornire bevande calde, coperte e genere di conforto. Le previsioni meteorologiche annunciano una precipitazione delle temperature, in strada in questa città vivono come in tutte le principali più grandi città d'Europa una moltitudine di senza dimora, di persone in difficoltà e abbiamo pertanto allestito in tre strutture pubbliche 150 ulteriori posti residenziali al caldo, abbiamo moltiplicato le unità di strada, vi saranno tre unità di strada che assicureranno il pronto soccorso ma anche coperte e bevande calde e alcune auto della Polizia Municipale che accompagneranno l'attività delle unità di strada. In sinergia con l'assessorato alla mobilità è stata inoltre prevista l'apertura delle stazioni della linea 1 Van Vitelli, Museo e Piazza Dante fino alle 6 del mattino per accogliere quanti ne avessero bisogno. Eventuali emergenze e casi di necessità potranno essere segnalati 24 ore su 24 al numero 081 562 7027.